Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog e niente di che, che poi oggi ho intenzionato di rilassarmi perché ieri sono stata alla festa dello sport alla sciorpa e infatti sono stanchissima e domani ci sarà il viaggio per Savona, per 5 giorni non vedevo l'ora vado, sono molto stanca adesso stavo giocando un po' il computer mi metterò a fare i diamanti e roba del genere e niente di che adesso vado a vedere se a casa mi manca qualcosa e... aspettate che faccio... oh no, mi ero sbattata può fare cosa che non va ma fa niente di che però c'è tutto da sia bianchi out mi metterò mi metterò mi metterò